Ciao e bentornati su MyFootballGersey. Oggi vedremo insieme la maglia dei Boston Celtic in edizione Icon per la stagione 21-22 nella versione Swingman. La maglia Boston Celtic Icon Edition 21-22 in versione Swingman unisce elementi di molteplici divise da sempre legate dall'amore dei tifosi per la squadra. Dalla divisa della prima stagione del 1946 fino all'epico titolo conquistato nel 1969 al campionato del 2008. L'ispirazione non manca per una squadra ricca di tradizioni come i Celtics. La citazione sulla targhetta del leggendario allenatore della squadra recita così. The Boston Celtics are not a basketball team, they are a way of life. I Boston Celtics non sono una squadra di basket, sono uno stile di vita. Realizzata in tessuto ad alta qualità a doppia maglia, unisce fattura classica e un fit impeccabile da qualsiasi triangolazione. Veramente strepitosa. Questa maglia nella mia classifica prende 4 stelle. È un classico del basket NBA veramente fatta bene con le cuciture, tutte le patch attaccate nel modo giusto. Incredibile si trovi a il solo costo di 26 dollari più spese di spedizione. Tra l'altro la spedizione è stata veramente molto veloce. In meno di quattro settimane sono passate dall'ordine alla consenna. Vi ricordo che in descrizione trovate i riferimenti per poter acquistare la maglia e del sito dove trovate queste e altre proposte. Ora, prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete la vestibilità, vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale per avere altre recensioni in futuro. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia media della versione Swingman.